Il nuovo lavoro vuole oggi approfondire alcune questioni relative alla gestione dell'insieme dei problemi della previdenza, qui discutiamo come il sistema previdenziale funziona, quindi individuiamo innanzitutto quali sono le questioni relative alla trasparenza e alla conoscenza delle varie gestioni previdenziali. La seconda questione attiene però anche a un tema complicatissimo che è quello dell'integrazione fra sistemi previdenziali, quali sono quelli del lavoro dipendente privato e quello del lavoro dipendente pubblico. Un terzo tema riguarda un mestiere nuovo che si sta profilando per l'Inps, che è quello della gestione, dell'allargamento della gestione della Cassa Integrazione, soprattutto attraverso la Cassa Integrazione e Inderoga. Ultima questione, Governance Inps. Queste sono le questioni che penso saranno all'ordine del giorno del futuro Governo, noi abbiamo dei lettori che in qualche modo sono interessati, almeno tutte le volte che abbiamo fatto un numero sulle pensioni e sulle questioni previdenziali o sulle questioni dei servizi all'impiego, della formazione, delle politiche attive hanno avuto molte reazioni, quindi questo è un tema interessante per i nostri lettori. Quindi l'opinione che raccogliamo adesso sono delle opinioni che potrebbero essere utili effettivamente.